Il giorno 15 ottobre 2019, 19, mese di ottobre, primo giorno interamente proprio autunnale, guardare questo cielo, guardare il cielo dove io mi trovo in questo momento. Sono al paese di San Giovanni Bianco, dopo San Pellegrino Terme. Sono qui protetto da un tetto a fare YouTube, sto YouTubando e per di più dirò che là in fondo c'è una bellissima pista ciclabile. Al mio amico glielo devo dire, a un signore che si chiama Sandro, che questa pista ciclabile va da Piazza Brembana, la pista ciclabile e va fino al paese di Zogno, fa tutta la Val Brembana. L'ho già fatta a piedi e devo dire che oggi purtroppo non si può fare la passeggiata a piedi. Infatti il programma era di andare a Cornello del Tasso, ma piove tantissimo, quindi nei boschi, in quel paese dove c'è la muratiera non vado, ma rimango qua ad ammirare il paese che io sono adesso, a San Giovanni Bianco, con le nuvole basse. Poi vedo là in alto un paesino di San Gallo, si chiama, denominato così. Ecco lì la fermata del bus, oggi non mi bagno, poi vado dal mio amico oculista che mi compra un quadro e poi stasera ritorno a Bergamo e da Bergamo Milano, la passeggiata sotto la pioggia senza bagnarmi. Saluto a tutti i miei ascoltatori.